Come on! Ascoltarlo! Questa casa è fantastica! Ehi John! Tutta quella birra! Guarda che poi ti viene la panzetta da birra! Sì ma Ken siamo tra amici! Poi dopo cena! Cioè ci sta! Sì però non esagerare! E così ci siamo ritrovati nella baita insieme! Certo che i comportamenti di mio fratello non li capisco proprio! Li piace Nicky ma allo stesso tempo sembra che ci stia provando con te! Beh non è proprio provarci! Semplicemente l'altro giorno ha visto un'amica in difficoltà e come ben sappiamo è nella natura di Luke aiutare gli altri quindi non significa molto! Beh effettivamente! Anche se a questo punto possiamo anche farlo un piccolo test! Oh no! Un test! Vedere se Luke è interessato a te o Nicky facendolo ingelosire! Stasera giocheremo d'obbligo verità con un'app proposta da me! Beh ecco quando sarà il tuo turno! Scegli verità! Inventati di aver ricevuto questa domanda! E rispondi così! Jennifer mi sembra un po' esagerato! Poi per una persona come me! Michelle! Cara non hai niente da perdere! E dobbiamo assolutamente capire se piace a Luke! Quindi mi raccomando! Tieni ben a mente le mie parole! Gruppo! Ragazzi! Allora! Facciamo qualcosa? Certamente! Stasera volevo proporvi un'attività! Un'attività che aprirà le vostre menti! No Liam! Stasera facciamo un gioco proposto da me! Ehi no! Come ti permetti! Stasera voglio organizzare io un'attività! Ragazzi! Calma! Facciamo uno per volta! Jennifer puoi cominciare tu! E poi faremo l'attività di Liam! Non è giusto! C'ero prima io! Stasera pensavo di giocare a obbligo verità! Ma non saremo noi a stabilire gli obblighi e domande! Bensì un'app! A turno tireremo a sorte scegliendo obbligo verità! E vedremo cosa ci tocca! Che ve ne pare? Jennifer è una bellissima idea! Chissà cosa ci capiterà! Beh a me in realtà non piace che sia l'app a decidere! Allora disponetevi! Forza! Inizio io! Scelgo verità! Jade dove vorresti andare in vacanza con Luke? Che strana domanda! Io sono più una tipa da spiaggia! Ma Luke non mi sembra un tipo molto da spiaggia! Quindi non saprei! Speriamo che le domande non siano tutte così noiose! Io scelgo verità! Lexi secondo te chi tra i presenti è il più geloso? Beh io non saprei! Ma certo che lo sai Lexi e sicuramente Katie! Scusa? Lexi guarda che non c'è nulla di male! Katie è una persona oggettivamente gelosa! Possiamo andare avanti! Io non temo gli obblighi quindi obbligo! Sean sei un fantasma! Fai un verso spaventoso! Sean mamma mia! Muoio di paura! Io scelgo obbligo! Fai un giro intorno a te stesso e quando ti viene detto fermo... ...baccia la persona che hai di fronte! Oh! Ok! Io dirò quando ti devi fermare! Stop! Oh! 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 Michelle, collegandoci al discorso che ti stavo facendo prima, direi che puoi far finta di provarci con Ken Con Ken? Ti ha pure baciata adesso Mi sembra l'occasione perfetta Anche io vado per obbligo Kylie, alzati e balla la macarena mentre Fernando canticchia la melodia per te Ok, sembra divertente Ok, andiamo Dalle a tuo corpo allegria macarena E macarena ai Che duo? Io vado con verità, ho paura degli obbligi Ma no Justin, che vuoi che ti capiti? E puoi fare un obbligo più divertente Forza, fai obbligo Ok, Justin cerca di rimorchiare Jade come se non la conoscessi per niente Cosa? Lo sapevo che dovevo scegliere verità Finalmente qualcosa di interessante Ehi, sei veramente bellissima, hai degli occhi stupendi, sei vestita molto bene Ti va di uscire, magari? No guarda, non mi interessa, ti conosco solo da 10 secondi Ah Sean, Jade sembra per niente interessata a me da quel punto di vista Guarda come mi risponde Ma era solo un gioco, non preoccuparti bro Sarà Visto come è andata Justin, sceglierò verità Jade, gli altri giocatori a turno diranno una cosa che a loro piace di te Mi piace molto la tua cucina Apprezzo il fatto che siamo rimasti in buoni rapporti Siamo costretti a rispondere Io amo mio cugino Tutto Concordo con Jade, adoro come cucini Credo che Jade sia una persona molto sensibile e rispettosa Mmm, Jade, mi piace tutto di te Oh, grazie Sei un ottimo amico Boh, la cucina La disponibilità di Jade Il fatto che sia una delle poche persone che ragiona In questo gruppo di ignoranti Beh, Jade, è carino La tua maturità, Jade Beh, cucini ad ogni festa Io ti adoro Amo il fatto che presti molta attenzione ai dettagli Io come Sean non ho voglia di rispondere e fare complimenti inutili Io come Nikki E io come Rosie e Nikki Grazie a tutti O quasi Che ti dai un pizzicotto forte a Lexi Con piacere Aia Verità Britney, raccontaci il tuo ultimo litigio Beh, diciamo che l'ho avuto con un'entità paranormale Che stava per far fuori i miei amici Quindi Particolare Sam, obbligo Sam, bacia Ken sulla guancia Che schifo Io non lo faccio Come ti permetti di dire che schifo? Mica sono sporco Io obbligo Perché non temo niente Fernando, canta una canzone di tua scelta Bueno Cantare ancora Beh, visto che tra un po' è il periodo Feliz Navidad Prospero Agno Voglio provare con un obbligo Liam, fatti un selfie con Fernando e pubblicalo come storia su Instagram Ma che cringe E dai Liam Vieni qua Sì sì, fai 15 flessioni Ma se non riesco nemmeno ad arrivare a 5 Luke, qua ci vuole una giornata dello sport 2 Questi non sanno nemmeno fare due flessioni Hai ragione Proviamo obbligo E amore Ho solo un obbligo Luke Fai una sfruggente dichiarazione d'amore a Lexi Pronti per un po' di romanticismo Non ti azzardare Nicky Chi è l'ultima persona che hai baciato? Luke Non pensate male La madre di Katie ci aveva costretto per fare una foto Ma che sta dicendo? Ha mentito Verità Hai una cotta per qualcuno nel gruppo? Dai così Sì Ho una cotta per qualcuno nel gruppo E qualcuno a cui tengo davvero molto Wow Dai Liam Di chi starà parlando? Potresti essere tu Non ne ho idea Jennifer Fai una foto a Jay e mettila come sfondo del cellulare per 24 ore Col cavolo Jennifer non capisco tu cosa abbia contro di me Sei uno sfigato Tutto qua Rosalinda Fai la ruota Ok Rosalinda stai attenta Ci sei caduta addosso Scusate Tocca a me È il momento degli obblighi Guarda Ken Mi sa che John ha bevuto troppo Senti come parla Io gliel'avevo detto di non bere troppe birre Il mio obbligo è Di un segreto Di una persona nella stanza Ma non dire il suo nome Ok Ok Beh Un segreto di una persona nella stanza Beh Una persona nella stanza Ha una cotta che va avanti da tantissimo tempo Per una persona che inizia con la lettera K Ma che sta dicendo John Così Katie capirà che è una cotta per lei Ma no stai tranquillo Ci sono tante K nel gruppo Tipo me Kylie Che ne dite se facciamo un altro giro? Ma quale altro giro? Adesso basta questi stupidi giochi da ragazzini E facciamo la mia attività Un quiz Più precisamente si chiama Kahoot Ovvero è un'app con la quale si possono generare dei quiz E beh io ne ho creato uno personalizzato Io estrarò delle coppie E voi giocherete Ovviamente io farò il giudice Oddio Liam che bello Chissà che domande ci farai Domande Sulla filosofia Che no Filosofia E poi le coppie che sono uscite Io sono con Katie E io con te Devo ricordarmi quello che ha detto Jennifer Devo far credere a Luke che mi piaccia qualcun altro per farla ingelosire Quindi devo sfruttare questa occasione con Ken Ken sono contentissima di essere in coppia con te Davvero è un onore Io ti ammiro tantissimo Davvero Michelle Sì Sei proprio una bella presenza Ma da quant'è che Michelle È così attaccata con Ken A noi è andata bene Britney Già E poi io non sono male in filosofia Io quella più stupida del gruppo Sam perché devi essere sempre così burbero E poi senza offesa Non mi sembri tu un genio in filosofia Allora potrei essere meglio io Ehi come ti permetti Io non so niente Lexi Nemmeno io Pronto Luke La sfida che non vinceremo Ah sì 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 ci sta Justin che bello essere insieme come a Capodanno dell'anno scorso Sì Rosy però non stringermi così forte non respiro Jennifer che onore essere con te Non ti biasimo Fernando secondo me arriveremo ultimi Anche secondo me Stull attenti Cominciamo con la sfida Dovete dare la risposta in pochi secondi Quindi scegliete in fretta Da dove proviene il brano di Fernando Savater Sulla libertà Il dialogo dei massimi sistemi Un'etica per un figlio Discorso sulla servitù volontaria Oppure orazione sulla dignità Ma che vogliono dire queste cose Lexi Clicca a caso Secondo me il dialogo dei sistemi massimi No è l'etica per un figlio Tu che ne sai di filosofia Tu che ne sai Time out La risposta giusta Era etica per un figlio Visto Qual è l'archè di Parmenide Il divenire La sostanza derivante di tutte le cose L'essere O una sostanza illimitata Jay questa la so È l'essere Mi fido di te Ken tranquillo Faccio tutto io Sono brava in filosofia Fantastico Bene L'essere era la risposta corretta Chissà chi vincerà questa sfida Passiamo alla prossima domanda Chi scrive il discorso Sulla servitù volontaria Etienne de la Boitier Galileo Galilei Montagne Picco della Marandola Non so te Fernando Ma me ispira questo Montagne Montagne? Sam basta di cliccare al posto mio Motando tu non le sai Etienne de la Boitier Era la risposta corretta Chi si serviva Della maieutica per insegnare Socrate Eraclito Platone Unice Unice Clicca su quell'eraclito Mi sta simpatico il nome Io Non so se è giusto La risposta corretta È Socrate Non ho mai visto Liam Tanto entusiasta per un'attività Ora Abbiamo vero o falso Platone Un alunno di Socrate Vero o falso Ken Le stiamo facendo tutte giuste comunque Wow Michelle Sei strabrava Grazie Ma Nicky Tu sapevi che Michelle e Ken fossero amici? Guarda Sì in effetti Sembrano andare molto d'accordo Che importa Ma la risposta era vera E ora Chi è che sosteneva che il mondo terreno Fosse diverso dal mondo celeste perché incompleto? Giordano Bruno? Platone? Aristotele? O Schopenhauer? E anche questa Jay non la sbaglieremo Aristotele E la risposta giusta È Aristotele Bene ragazzi Siamo arrivati all'ultima domanda A fine del gioco faremo una classifica per vedere chi è primo e chi è ultimo Allora Perché Eraclito veniva chiamato lo scuro? Perché si esprimeva in maniera criptica? Perché non ha mai espresso il suo pensiero filosofico? Secondo me è perché non ha mai espresso il suo pensiero filosofico Per me è la prima Speriamo di vincere Ken E la risposta giusta è Perché si esprimeva in maniera criptica? Accidenti Jay Ne abbiamo sbagliato solo una Io e Ken le abbiamo fatte tutte giuste A meno che qualcun altro non le abbia fatte tutte giuste Voi siete i vincitori Qualcun altro le ha fatte tutte giuste Il silenzio mi sembra parlare da solo Quindi la classifica totale è questa Michelle con Ken Poi Jay con Britney A seguire Luke con Nicky Sean con Katie Lexi con Sisi Rosie e Justin Kai e Jennifer Sam con Jade E per concludere John e Fernando Lo sapevo che saremo arrivati ultimi E voi? Che? Sam avresti dovuto far cliccare me Siamo ben ultimi Che vergogna Ma che ti frega di uno stupido gioco organizzato da Liam Parlando a tutti quelli che hanno fatto uno o due punti vi direi Di studiare Aprire i libri E informarvi Più che ti è piaciuto il quiz che ho fatto A me tantissimo No molto Magari le piace ma non sono così legati Non significa niente Basta Io me ne vado Sono troppo addolorato Luke Ahia Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.